D-Call SRL Temi di etichettatura, confezionamento di prodotti con film termoretraibile monopiega, a doppia bobina, linea di sleveratura. In particolare, le operazioni vengono svolte su prodotti cosmetici, di profumeria o di largo consumo. L'azienda dispone inoltre di un ampio reparto adibito al servizio logistico, offre stoccaggio ed immagazzinamento dei prodotti, personale addetto al prelievo e all'assemblaggio della merce per l'approntamento degli ordini. Tutti gli stadi di questi processi sono coordinati, integrati e monitorati attraverso un sistema computerizzato che permette di conoscere in tempo reale la situazione delle giacenze delle lavorazioni in corso, in modo da offrire al cliente un servizio puntuale, efficiente ed ottimale. I nostri servizi sono sinonimi di qualità, puntualità e garanzia. Se lo desiderate potete, previ appuntamento, venirci a trovare a Vignate, in provincia di Milano, in via Toscana 13-15.